Ciao ragazzi! Ogni tanto, anzi spesso, mi capita di ricevere da parte vostra richieste di commenti, di opinioni sui vostri curricula. Allora, io non sono un'esperta, però ne ho visti abbastanza per potervi dire una cosa su tutte. C'è un errore che moltissime persone fanno e visto che siamo nel momento di grande dialettica su cosa fare quando si perde il lavoro, secondo me c'è un accorgimento da prendere. Questo accorgimento è lasciate stare educazione, quindi formazione e esperienza lavorativa se queste due devono completamente togliere l'attenzione, distogliere l'attenzione di chi lo legge dalle vostre competenze, dai vostri skills. Il mercato del lavoro del futuro, ma in realtà anche del presente, si basa sulle vostre competenze. Non nascondetele. Alle persone non interessa leggere. Guardate, i selezionatori leggono i curricula in media in nove secondi. Nove secondi. Questo vuol dire che in nove secondi devono trarre informazioni sufficientemente valide per capire se andate bene per il posto o no, o almeno per portarvi avanti nel processo di selezione. Che cosa vorreste vedere voi? Vorreste vedere il posto dove avete lavorato? o vorreste, cioè preferireste che il selezionatore capisse che cosa avete imparato in quel posto? Che cosa sapete fare? Che cosa non sapevate fare prima e ora siete dei draghi a fare? Pensateci e non lasciate le competenze alla fine. Mi raccomando, vedrete come cambierà la vostra ricerca. Stop whining sempre!